La nuova Espace è il risultato di tutto il know-how Renault nel campo della sicurezza passiva e ha conseguito una valutazione di 5 stelle nei test Euro NCAP 2015. È previsto un equipaggiamento completo di sicurezza passiva che prevede due airbag frontali, due airbag torace laterali e due airbag tendina nella prima fila. Sono previste cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di sforzo nella prima e nella seconda fila. I tre sedili della seconda fila prevedono fissaggi Isofix con tre punti di ancoraggio. Grazie a tutti.